Ciao, mi chiamo Daniele e ti voglio parlare di dropshipping su ebay. Se è possibile guadagnarci, cosa serve per iniziare e perché la maggior parte delle persone falliscono. Resta con me. Dropshipping su ebay, sicuramente ne avrai sentito parlare in giro su youtube, specialmente se frequenti i video americani dove se ne parla molto, forse non è la prima volta che ne senti, ma te ne voglio parlare e ti voglio dare la mia opinione su questo. Come saprai o forse non sai se è la prima volta che entri nel mio canale, il dropshipping su ebay è una delle mie forme di guadagno e voglio esprimere alcune delle mie opinioni riguardo. Prima cosa, per chi non sa cosa è il dropshipping, ti spiego velocemente di cosa si tratta. Il dropshipping è un business model dove tu fai vendita a dettaglio a cliente senza avere la merce in magazzino, dove il fornitore che tiene in giacenza la tua merce, che già hai in tuo possesso o ancora non hai, spedisce per te direttamente a cliente. Quindi tu non dovrai occuparti della spedizione, non dovrai occuparti del magazzino, ma dovrai solo occuparti del marketing, di vendere il tuo prodotto e di spedirlo, e di dare supporto al cliente. Su youtube, nei blog, specialmente americani, ormai si parla che il dropshipping su ebay è morto, perché ci sono varie forme di dropshipping su ebay, su shopify, su amazon, su etsy, tante altre. Ma quello che è stato più famoso per molto tempo è stato quello su ebay, ormai sarà dal 2015 che si dice che non porta più profitto, che non porta più denaro, eppure c'è gente, compreso me, che ancora fa molti soldi, semplicemente vendendo su ebay. Quindi, la vera domanda è, perché si dice che è morto? Prima di tutto dovete capire che è un business model, quindi non può morire fino a quando non muore tutto l'intero settore del retail, del commercio, dell'e-commerce, ed essendo ancora solo il 35% super giù del commercio mondiale, il commercio online possiamo dire che ancora è solo agli inizi, quindi su questo non ci sono dubbi. Il problema è che la maggior parte delle volte le persone falliscono e quindi cominciano a dire che non è più profittevole, che non è più conveniente, perché fanno degli errori magari tra principianti o fanno degli errori abbastanza gravi che non gli permettono di guadagnare o non gli permettono di continuare a guadagnare. E vorrei un attimo parlare con te degli errori più comuni che la gente commette iniziando a vendere in dropshipping su ebay. Il primo errore è il volessi arricchire troppo in fretta. Molti vogliono iniziare a fare dropshipping e cominciare a avere soldi fin da primo giorno, invece non funziona così. Dropshipping è un business serio, hai bisogno di studio, di lavoro e di tempo per farlo crescere, come qualsiasi altro business. Quindi se tu inizi oggi e vuoi iniziare a fare dropshipping, non ti aspettare di vedere il primo guadagno in una settimana o in due settimane, se ancora non sai nemmeno cosa stai facendo. Hai bisogno di tempo per scalare il business, avviarlo e attuare le giuste strategie di marketing. Il secondo errore, secondo me il più grave di tutti, è il non conoscere ebay. E non intendo conoscere, nel senso saper mettere in vendita un oggetto o semplicemente sapere come funziona il sito, ma intendo delle politiche ebay, cioè sapere come funziona il customer service di ebay, cosa si aspetta ebay da te come venditore, come non farti sospendere gli account, che ti avverto oggi è molto facile essere sospesi, perdere il negozio, perdere gli account, ma ci sono molte teorie, centinaia di teorie attorno a questo, io resto è la mia opinione che fino a quando fai un buon lavoro, offri un ottimo customer service, il cliente è felice, grossi problemi non ne dovresti avere. Quindi la prima cosa da fare è vai su ebay, leggi tutte le politiche, ti lascio anche il link in descrizione, assicuriti di non violarle e di non dare l'opportunità a ebay di farti fuori, perché se possono, lo fanno. Il mercato è un altro errore comune, il mercato dove si opera, la maggior parte delle persone inizia sul mercato USA, sul mercato degli Stati Uniti, perché è il mercato più grande, ma è anche quello più saturo, è quello con più potenziali problemi, che magari puoi approfondire in un altro video. Tra l'altro iscriviti al mio canale, perché affronterò argomenti sempre più dettagliati sul dropshipping, che ti permetteranno di iniziare a avere un business di successo con un investimento minimo. Quindi se sei interessato, iscriviti ora, poi lo dimentichi, e cominci a seguire. Posterò due o tre video a settimana. Ma tornando ai mercati, quello che io consiglio personalmente, che ho potuto vedere i miei riscontri, i miei test, e dalla mia esperienza, come faccio dropshipping su eBay da un anno e mezzo, con ottimi risultati, di favorire il mercato europeo. L'Europa ha un sacco di mercati grandi, come il mercato francese e il mercato tedesco, il mercato italiano un po' meno. Se ti posso dare una mia opinione, il mercato francese al momento è il migliore, dopo quello tedesco, però in Germania ci sono dei problemi, che non voglio approfondire in questo video, problemi fiscali. Il mercato francese è tra i più grandi in Europa. Ti consiglio, se vuoi iniziare, di iniziare lì, perché è davvero profittevole in questo momento. Secondo me è molto più dell'America, perché sono molti meno competitivi. E l'ultimo per elenco degli errori che le persone fanno e li portano subito a fallimento, è quello di non lavorare e non studiare abbastanza. Come ogni business, devi lavorare duramente, inizi e lavorerai tante ore al giorno, 6, 7, 8 ore, magari 5 ore, perché devi studiare, devi lavorare, ti devi formare. Ed è importante formarsi più degli altri, perché se ti formi più degli altri, avrai più vantaggio degli altri e soprattutto migliori il tuo business, scali i tuoi negozi. Quando io ho iniziato, ho perso il primo negozio per errori miei, che avrei potuto evitare studiando di più, formandomi di più sull'argomento. Mi sono pullato, ho cercato di renderlo come business passivo, troppo presto, senza studiare abbastanza, e ho perso il negozio. Ora ne ho 3, quasi 4, 4 sta per essere lanciato, tutti profittevoli, e quindi ho imparato i miei errori, e ti consiglio di fare lo stesso formati. È pieno di risorse online, su YouTube, sui blog, sui forum, davvero, non mancano, specialmente in inglese. Ma cosa serve per iniziare a lavorare in dropshipping su eBay, se tu volessi iniziare ora? Ti servono 5 cose precise. Prima cosa, il software gestionare. Io uso Autodes, ti lascio il link in descrizione, è un software che ti permette di gestire il rapporto fra fornitore e eBay, ossia ti cambia il prezzo se tu usi un fornitore come Aliexpress o Amazon, che è quello che principalmente uso anche io, Bangkok e tanti altri, China Brands. Avrai bisogno di un software che ti monitora il prezzo, perché se ovviamente dal tuo fornitore il prezzo varia in alto o in basso, necessiti di qualcosa nel tuo sistema automaticamente nel tuo negozio, perché non puoi farlo manualmente, specialmente se hai migliaia e migliaia di annunci o anche centinaia, è una cosa, un lavoro che manualmente non puoi fare. Quindi questa è la prima cosa che ti serve. Io poi tutti gli argomenti che ti sto dicendo farò un video per ogni argomento, in modo da approfondire e darti tutti gli strumenti universali per iniziare. Poi ti serve un account eBay, ovviamente. Lo puoi registrare, però se lo registri oggi è molto più restrittivo sui nuovi venditori, sospende gli account molto facilmente. Se tu ne hai uno datato, magari registrato un paio di anni fa, o se sei più fortunato dieci anni fa, hai già un grosso vantaggio, sinceramente. Hai un grosso vantaggio, perché hai un account con un po' di storico, anche se lo storico è minimo, ovunque è datato, quindi sarà meno probabile che ti venga sospeso. Ti consiglio di iniziare da quello, non registrare, perché se poi viene sospeso, il problema è che eBay non ti permette di registrarti nuovamente, e hai bisogno di altri mezzi per registrarti in modo, diciamo, non intracciabile a te. Un argomento più, diciamo, complessi che non affronto in questo video. Quindi hai bisogno del software gestionale, dell'account eBay, di un fornitore, ovviamente hai bisogno di un fornitore, che spedirà i prodotti per te, che penserà a tenerteli in magazzino, puoi scegliere se cercare un accordo con un tuo fornitore locale, magari nella tua città, nel tuo paese, oppure di usare uno dei tanti negozi disponibili online, come Amazon, Bangkok, China Brands, AJ, H-Date, tanti altri che trovi facilmente online, molti dei software gestionali già ti danno una lista, una lista predefinita che puoi utilizzare. E poi, l'ultima cosa di cui hai bisogno è il duro lavoro. Ti ripeto, il duro lavoro è alla base, se tu non lavori duro non avrai risultati, non pensare che inizi una settimana avrai risultati, in due settimane avrai risultati, perché hai bisogno di tanto studio e tanto lavoro, ma è un business che ti può portare grandiosi risultati, te lo dico. Io che nel mio anno e mezzo di esperienza ho visto molti lati negativi, ma anche tante soddisfazioni, quando riesci a ingranare, riesci a costruire, puoi mettere quasi tutto a pilota automatico, avere un'entrata anche consistente, senza troppo lavoro. Ovviamente se non vuoi stare in business, io lavoro tutt'oggi, molto perché sto cercando di scalare i business di ebay, sto aprendo sempre più negozi, e voglio seguire altri obiettivi a lungo termine che ho. Se vuoi saperne di più, iscriviti al mio canale, seguimi, posterò ogni settimana due o tre video sull'argomento dropshipping, ma non solo, mi occupo anche di Amazon FBA, ho iniziato a fare Amazon FBA, mi occupo di azioni, di investimenti, di crescita finanziaria, quindi, se ti è piaciuto il video, se ti ho chiedito un po' di idee, mi fa piacere, metti mi piace, e iscriviti al canale, perché ogni settimana pubblicherò due o tre video sull'argomento di crescita finanziaria, dropshipping ebay, e Amazon FBA, diciamo che questi sono i tre argomenti principali che affronterò in questo canale, mi farebbe piacere che ti iscrivessi, in modo che possa aiutarti, a dando dei consigli su un percorso che ho fatto, che sto affrontando, sulla libertà finanziaria, e vorrei che tu seguissi questo percorso insieme a me. Spero di rivederti presto, ciao!